Negli ultimi anni l'azione devastatrice del punterolo rosso delle Palmi ha colpito anche il patrimonio botanico pubblico del comune di Alba Adriatica. Nonostante tutti gli sforzi compiuti per arginare la diffusione del parassita e limitarne i danni. Viste le perdite subite, soprattutto nell'area litoranea, dichiara il sindaco Tonia Piccioni, l'amministrazione ha deciso di dare l'incarico all'agronomo Lorenzo Granchelli che ha eseguito un attento studio su Lungomare Marconi. Sulla base del progetto e della relazione rimessa è stato elaborato un programma di sostituzione per la ricostruzione del patrimonio arboreo dell'area. Emerge chiaramente come la problematica legata agli attacchi del punteruolo rosso sia legato al fatto che il Lungomare Marconi è composto in prevalenza da palme, pertanto occorre necessariamente ricreare un contesto in cui vi sia un sostanziale aumento della biodiversità locale che è l'unico modo corretto di contrastare lo sviluppo incontrollato di parassiti o patologie delle piante. Aggiunge poi il consigliere Marco Tribuiani, in base ai dati raccolti sul Lungomare Marconi, il patrimonio arboreo originario ammontava 871 elementi rilevabili. Di questi risultano buone esclusivamente 703 palme, mentre le rimanenti 168 sono devitalizzate o in condizioni molto critiche, con una perdita di quasi il 20% sul totale. In particolare, conclude il sindaco, in sostituzione delle palme devitalizzate nella Rotonda Nilo, la specie prescelta è la Celtis australis, pianta nazionale di elevato valore ornamentale e paesaggistico. Si evidenzia che la stessa pianta è già presente sul territorio, con un esemplare monumentale situato all'interno del parco di Villa Flaiani, uno degli alberi più vetusti che vegeta nel comune di Alba Adriatica.